Ciao a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente tra un po' è Natale, quindi vi faccio un video natalizio e vi faccio la gift guide, la guida per i regali di Natale per una vostra amica, vostra sorella, vostra mamma. Adoro ricevere i regali e mi piace tantissimo anche farli, quindi vi voglio consigliare su cosa poter regalare. Tutti pensano che il pigiama da regalare sia brutto, invece secondo me a me piacerebbe riceverlo, specialmente quelli tutti morbidosi, come avete visto ora, alti e zenis, non so se ci siete andate, c'è un pigiama grigio, tutto peloso, con un orsetto. Se alla vostra amica gli piacciono tanto le tisane, potete regalargli una bella tazza di quelle apposta per le tisane, quelle abbastanza alte, che all'interno magari hanno il suo cestino per poter mettere l'infuso, e il coperchio, in una confezione carina, con varie tisane, anche da tiger ce ne sono tantissime, oppure mettere delle tisane, magari fatte su misura all'erboristeria, che possiamo normalmente fare. Se la vostra amica o la vostra sorella ha il braccio di Pandora, potete fare un pensierino carino regalando un ciondolino. Ci sono di tutti i prezzi, partono dai 15 euro e arrivano a salire, insomma. E' molto carina, cosa molto personale, magari anche ci sono dei ciondolini sulle amiche, se magari lo avete anche voi, quelli che si possono dividere, una a te e una a me. Se alla vostra amica o a vostra sorella gli piacciono molto i trucchi, potete regalargli una truzza, una bustina carina, capiente, o anche piccola, come volete. E la cosa originale è che potete comprare vari trucchi, che sapete che a lei piacciono, e appena la apre troverà dei trucchi. Magari potete metterci anche delle caramelle. Sta iniziando l'anno nuovo, tra un po' è il 2016. Cogliete l'occasione per regalargli una bella agenda. Ci sono di vari tipi. A me personalmente piacciono, tipo quelle della Filofax, che sono in pelle o in ecopelle, che hanno gli anelli, in modo che ogni anno, quando finisce l'anno, potete ricambiare i fogli, in modo da non buttare l'agenda e riutilizzarla. Oppure ci sono della Kiki K, in varie cartellerie ci sono di tutti i tipi, di tutti i prezzi e di tutti i colori o quello che volete. Una cosa molto pucciosa sono le pantofole. A me piacerebbe tanto ricevere e regalare soprattutto un paio di pantofole morbidose. Magari a forma di gatto, col musino, tutte molto carine. Si trovano tantissime su internet, come anche con i pigiami, potete trovare quelli interi, con la cerniera che si chiudono, con il cappuccio, con i personaggi. Sono molto carine. Le ciabatte soprattutto sono una cosa utile, che viene usata tantissimo, e riceverla secondo me non è una brutta idea. Potete regalare anche una bellissima cover, magari personalizzata, con delle foto, oppure su internet. Ce ne sono di tutti i tipi, su Asus, su Aliexpress, su Men in the Box, di tutti i tipi. Se non volete spendere tantissimo andando a Neodoronics, potete andare su questi siti, magari con abbastanza preanticipo, perché dipende dai tempi di spedizione. Comunque è un'idea molto carina, e ci sono anche quelli di tutti i prezzi, specialmente quelle con le foto personalizzate, sono, diciamo, una cosa adorabile. Oppure potete regalare un paio di cuffie, di quelle grandi, magari. Ci sono della Sony, l'ho vista rosa, sono bellissime, e sono anche quelle una cosa utile. Oppure quelle semplicissime, che si inseriscono nell'orecchio, quelle piccoline, che ci sono anche molto carine, anche quelle sui siti, con la sua scatolina, per esempio, l'ho vista con il Macarons, che si girano intorno. Oppure, se volete andare sulla marca, quelle dell'Apple sono fantastiche, quelle dell'iPhone 5 e dell'iPhone 6. Un'altra cosina molto carina, se alle vostre amiche piacciono le Yankee Candle, o altri tipi di candele, se non volete andare sulle Yankee Candle, anche se le so se sono le migliori, potete comprare una scatolina, di quelle che si aprono, da Tiger ci sono i brillantini, a forma di cuore, con il nastro che sembra un pacco regalo, ci sono di tutti i tipi, o magari farla voi, una scatola e ricoprirla con la carta dal regalo, come preferite, inserirci dentro la collezione di Natalizia, che ce ne sono tantissime, oppure se la vostra amica non le conosce, e non ha mai comprato delle Yankee Candle, potete regalargli, o le candeline, quelle piccoline, le mini, le mini candeline, che le può benissimo mettere in un bicchiere, e bruciarle, una cosa molto dolce, e un penzerino molto carino, una cosa molto utile, che d'inverno serve sempre, e ne abbiamo sempre bisogno, sono i completi, cappello, sciarpa e guanti, magari abbinati, che potete ritrovare ovunque, quelle ce ne sono dappertutto, e è un regalo molto carino, secondo me, ottimo da ricevere, perché è utilissimo, un altro regalo molto carino, e diciamo, tra virgolette, fatto da voi, può essere, una garaffa, magari quelle, o quelle col coperchio, o quelle che si chiudono ermeticamente, con all'interno, degli smalti, una lima, insomma, delle cose per le unghie, con all'interno magari, delle caramelle, cose molto dolci, dei bigliettini, e magari attaccarci un adesivo sopra, con scritto, per chi è, da chi è, tanti auguri di Buon Natale. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'ispirazione, e vi auguro Buon Natale, al prossimo video!